Siamo a Frassinoro, sull'Appennino Modenese, siamo qui in occasione dei 950 anni dalla Abbazia. Siamo qui con Don Luca che ci racconta quali sono gli eventi in programma. Sì, noi iniziamo i festeggiamenti per i 950 anni fino al 29 agosto, quindi tutte le sere, anche il pomeriggio, così c'è sempre qualche cosa, sia per i ragazzi, sia per gli studiosi, sia per i giovani, eccetera. Qui ci troviamo invece nel Museo Lapidario. È una cosa veramente nuova perché non l'abbiamo mai fatto vedere a nessuno fino a questo momento. Abbiamo pensato di inaugurarlo in questa occasione bellissima dei 950 anni della Abbazia. Come vedete, qui ci sono i resti degli avanti architettonici dell'abbazia. Non dico i più belli perché i più belli sono conservati in chiesa o murati nel campanile, ma sono delle cose veramente interessantissime. Qui abbiamo la prova che esistevano due chiostri, qui a Frassinoro, che sono stati distrutti nel 1300. Però abbiamo le prove rimaste, appunto, i capitelli, le basi dei capitelli, eccetera. E poi abbiamo anche tantissimi altri semi capitelli, come potete vedere, che sono belli, bellissimi anche questi. E cerchiamo di metterli in mostra proprio per far vedere ai visitatori che verranno tutte le bellezze architettoniche che abbiamo qui a Frassinoro. La meravigliosa Frassinoro ci accoglie ancora una volta. Ci troviamo qui con Pietro Natale Capitani, che ci racconta di che cosa si occupa l'Associazione Mattildica Internazionale. L'Associazione Mattildica Internazionale è stata fondata alla fine del 2018 per volontà del professor Golinelli, uno dei più illustri studiosi, più famosi studiosi di Matilde, di Canossa, un medievista molto importante, professore universitario, che ha ritenuto di dare seguito anche alla propria attività coinvolgendo un certo numero di persone interessate alla figura di Matilde e dei Canossa in generale. Questa abbazia, fondata nel 1971 da Beatrice di Lorena, madre di Matilde di Canossa, in una zona apparentemente lontana da tutto, anche dai centri importanti di allora, ma è importante perché è un'avazia rivalico, è a poca distanza dal Crinale, è sul percorso che dalle miglia si va verso la Toscana e quindi Lucca, e quindi si procede poi per Roma, quindi tutte sulle vie dei pellegrinaggi. E abbiamo costituito questa associazione che si prefigge appunto di studiare, approfondire la figura di Matilde in tutti gli aspetti, non solo storico-culturali, ma anche della figura femminile di Matilde per quello che ha rappresentato nel suo periodo storico e anche per l'ispirazione che ha dato a tanti studiosi, a tanti intellettuali nei secoli successivi. L'associazione ha cominciato subito il proprio lavoro facendo delle giornate di studio, di approfondimento e pubblicando anche gli atti e anche una newsletter periodica per aggiornare sugli studi che vengono fatti. E in occasione del 950esimo anniversario di fondazione dell'Abbazia di Frassinoro è stata mobilitata, abbiamo coinvolto direttamente e ha organizzato una giornata di studi che avrà luogo il 28 di agosto qui a Frassinoro, dove saranno chiamati illustri studiosi, appunto, con una dozzina di relazioni di grande rilievo. Si parlerà del monachesimo benedettino, della figura dei Canossa, la figura di Matilde, la figura di Beatrice. Molto importante questa cosa per il territorio, non solo per la rievocazione storica e culturale, ma per proprio dare un'identità, conservare un'identità della località, del paese, della zona tutta, perché è coinvolta tutta la zona, non soltanto il capoluogo di Frassinoro, per dare centralità a questi luoghi ancora adesso, dopo che ne hanno avuto così tante nel Medioevo. Francesco, in apertura delle tante iniziative per festeggiare i 950 anni dell'Abbazia di Frassinoro, in occasione della settimana matillica, la Fondazione presenta la piattaforma Lodovico. Di cosa si tratta? Lodovico è una piattaforma digitale di Agomodena Fabbriche Culturali, finanziata da Fondazione di Modena, sviluppata dal Centro Interdipartimentale per le Digital Humanities dell'Università di Modena in Reggio Emilia, che è dedicata appunto alla digitalizzazione del patrimonio, e in particolare in questa prima fase patrimonio archivistico e bibliotecario, attraverso dei protocolli tecnologici molto avanzati, che consentono ai documenti di essere interoperabili con altri documenti che rispettino gli stessi standard, di portali, diciamo, presenti sulla rete e dove sono custoditi i giacimenti di molte altre istituzioni internazionali, il che rende effettivamente appunto interoperabile, diciamo così, ricongiunto un patrimonio importante su scala mondiale. È una piattaforma che ha tre compiti fondamentalmente. Il primo è di conservazione dei documenti, il secondo è di favorire la ricerca, perché appunto mette a disposizione di una platea di studiosi molto più ampia, materiali importanti. Il terzo è la valorizzazione di questi documenti, consentendo e favorendo dei programmi anche di disseminazione, di raggiungimento di un pubblico il più vasto possibile, diciamo l'intera cittadinanza. In sostanza uno sguardo al futuro nel rispetto del passato. Esattamente, è un grande strumento di trasmissione. La trasmissione è un fattore fondamentale per la continuità culturale, e la digitalizzazione, le nuove tecnologie, gli strumenti digitali sono una grande occasione per incentivare e, come dire, anche consolidare questi meccanismi di trasmissione culturale.